Ok, eccoci ancora in diretta dal NAMM Show, allo stand in Vader, un saluto da Dr.Dram e dal Gold Music TV. Alcune delle novità a Vader sono molto interessanti, che hanno presentato quest'anno, che ci sarà nel nuovo catalogo di quest'anno, 2014. Sono ad esempio queste Power 3A, che praticamente è la normalissima 3A, solo che è più lunga e un po' più cicciotta, diciamo. La caratteristica è molto simile alla 3A, solo che appunto ha delle dimensioni diverse. Ma una cosa che vogliamo farvi sapere è che in Italia arriveranno anche i due modelli di Mike Justin, che tra l'altro l'abbiamo appena incontrato, abbiamo appena fatto delle foto insieme, che poi metteremo sul web, eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante, e che vogliamo farvi vedere e provare, è la serie Nude. La serie Nude, che non è certo una novità di Vader, ma è in assoluto, penso, la bacchetta più furba che un costruttore di bacchette possa aver fatto, perché non lo fa nessuno. Il fatto di ottenere una bacchetta che fanno le misure normalissime, quindi 5A, 7A, le 5B, Power 5A, Power 5B, le Fusion. Però la cosa bella di queste bacchette è che non sono rifinite a livello di laccatura, non hanno una laccatura, sono grezze. Quindi, a differenza delle altre, non scappano, aumenta il grip ed è molto confortevole come bacchetta. Anche le misure sono ottime e poi la qualità del legno Vader è incredibile. Veramente molto, molto, molto bella. Questa è una serie molto interessante di Vader, poi chiaramente ce ne sono anche altre, ho perso il posto di dove andava, eccola qua. Altre novità che hanno presentato ci saranno, ma solo per il mercato americano. E comunque ci sono anche, forse l'ho già detto, i modelli Mike Justin che arriveranno in Italia. Un saluto dal Girl Music TV, dal NEM Show, in diretta dal NEM Show e un saluto a voi dal Dr. Drum.